Due anni di lavori ma forse anche meno per restituire alla collettività la scuola di San Sisto Santa Barbara costerà oltre 4 milioni di euro. Oggi la posa della prima pietra, la presenza del sindaco Pierluigi Biondi e dell'impresa Aquilana Cerci Costruzioni. È un intervento importante a servizio di un quartiere molto popoloso. Il sindaco peraltro ha avuto un incontro a Roma lunedì per sbloccare l'impasse per 5 edifici che hanno avuto dei problemi. Quindi contiamo all'anno scolastico 2024-2025 di inaugurare anche questo ulteriore edificio che va a servizio di una comunità importante in un quartiere popoloso della città dell'Aquila. Su due edifici si tratta solamente di un'integrazione del finanziamento e la situazione è abbastanza risolta. Per altri tre edifici, invece, trattandosi di delocalizzazioni, dobbiamo verificare la possibilità di stralciare da una vecchia delibera cipe la non ammissibilità dei costi per gli espropri. Abbiamo avuto anche una buona notizia proprio dalla Montesarchio che si sta sbloccando un ulteriore finanziamento che riguarda sempre l'edilizia scolastica di cui parleremo. L'auspicio condiviso da tutti è che nella seduta del CIPES di settembre, l'ultima di questa legislatura, possano essere portate le cinque scuole dell'Aquila, oltre a altre scuole del cratere, complessivamente dovrebbero essere una quindicina, e quindi chiudere questa prima fase di un percorso che è stato abbastanza complesso, che per oggi vede la luce. La scuola ospiterà infanzia e primaria, circa 300 alunni. Il progetto definitivo è stato fatto direttamente dal comune con l'offerta migliorativa della GC Ingegneria. Cambierà anche la viabilità di accesso. La realizzazione consta di due corpi di fabbrica destinati uno all'infanzia e uno alle medie, corpo centrale della palestra che collega entrambi i corpi. La viabilità verrà modificata con un ingresso separato per i due plessi, quindi uno per la parte dell'infanzia e uno per la parte delle medie. La struttura è una struttura mista di cemento e acciaio, quindi una struttura che verrà velocemente tirata su, e noi confidiamo di poter anticipare i tempi dei due anni che ci sono stati concessi.